Poca collaborazione con i medici di base, arriva la protesta che poi è anche una constatazione rispetto a un episodio avvenuto nei giorni scorsi al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Nociari Inferiore. Alla nostra rubrica Ufficio Reclami si è rivolto infatti il medico Paganese Gerardo Torre che ha raccontato un avvenimento che sarebbe la normalità secondo lui nel punto di prima emergenza ospedaliera del nosocomio di Viale San Francesco. Un rapporto che non decolla, quello tra i dottori presenti al pronto soccorso e non solo dell'ospedale Nocerino e i medici di base del territorio a quanto pare, specie quando questi ultimi accompagnano i propri pazienti. Torre afferma di essere stato cacciato dal pronto soccorso e di aver avuto un duro diverbio con una dottoressa in particolare, nonostante ci siano leggi di settore che Torre ha voluto infatti rimarcare. Io rimango essere fatto e credo di essere qui per sottolineare non nemmeno una denuncia ma per una volontà di regolarizzazione di un ambiente che secondo me può produrre improvvisamente delle tensioni tali che possono anche cadere a volte in meccanismi poco nobili. Che cosa è accaduto? Lei ha accompagnato una sua paziente? Come io anche di un altro collega che è il mio cognato, il dottore Ferraioli, che ha avuto una fruttura del femore. Quindi ci siamo abricati in pronto soccorso per fare chiaramente l'accompagnamento ma nel frattempo anche per denunciare o annunciare ai nostri colleghi l'evento e nonché un'anammanistica praticamente di una persona anziana. Cose che accade spesso vogliono dire anche da parte di altri colleghi o per familiari o per eventuali pazienti. Io ho scartabellato il contratto nazionale alla legge numero 49. Invito chi chiaramente ha questa visione giuridica di fare un'indagine riguardo. C'è proprio una recita particolare per la quale i colleghi di pronto soccorso sono obbligati a mettersi a disposizione dei medici di famiglia o di medici di fiducia che raggiungono il pronto soccorso in accompagnamento di pazienti. Anzi i medici di famiglia possono financo intervenire e entrare nell'ambito non solo del cartaceo ma anche dei dati sensibili dei pazienti che praticamente arrivano nell'ambito dell'ospedale. Arrivi lì, ti presenti come collega, sono il dottore Torro, sono il dottore Ferreolo, sono il dottore Tizia Caio. La prima cosa che ti dici è un po' fuori, esci fuori. Cioè questa è la nota, esci fuori, non si permette nemmeno di... Allora io faccio un appello, un appello a chi può veramente o trovare le condizioni perché questa venga, come dire, catechizzata ad avere un atteggiamento qualificato come soggetto medico e professionale o altrimenti venga allontanata perché non è possibile, non è proprio possibile immaginare che un soggetto sui generis possa assolutamente coordinare le sorti di un posto di accoglienza che è pronto soccorso di una città come Noceano Inferiore. Mi appello ai dirigenti, ai direttori sanitari, al direttore generale e anche all'ordine dei medici perché se non c'è un intervento ipso facto praticamente i responsabili non diventano solo la dottoressa ma diventano quelli che gli permettono di operare in questa maniera.